Il caso Sardegna, con la messa in discussione della ricandidatura del governatore uscente Cristian Solinas della Lega alle regionali da parte di Fratelli d'Italia, rischia di determinare ripercussioni nel centrodestra anche nelle altre regioni per le quali è imminente il voto, tra cui l'Abruzzo. Matteo Salvini, con le sue dichiarazioni, qui si aggiungono quelle del suo braccio destro Crippa, ha di fatto congelato i precedenti accordi nelle cinque regioni interessate, Piemonte, Sardegna, Umbria, Abruzzo e Molise, che volevano i presidenti uscenti e i candidati in blocco. In Sardegna il vicepremier ha infatti trovato l'ostacolo di Fratelli d'Italia, che ha proposto il sindaco di Cagliari in contrapposizione al governatore uscente. In Abruzzo la candidatura di Marsilio è data per tutti certa ed è evidente già nei primi manifesti elettorali. Ovviamente appare improbabile che la Meloni metta solo in discussione per accordi di coalizione un simbolo della crescita del suo partito. Nel 2019 fu proprio la premier a spedire in Abruzzo Marsilio, che vinse la sfida con l'ex presidente del CSM Giovanni Legnini e alla fine dei giochi la Meloni ha avuto proprio in Abruzzo il primo presidente di regione di Fratelli d'Italia. Lei stessa, peraltro, è stata eletta nel collegio dell'Aquila. Un esplicito no di Salvini a Marsilio si potrebbe configurare quasi come un affronto personale alla premier, ma la Lega a livello regionale per il momento non ha preso posizione alcuna. Bocche cucite e nessuna risposta neanche a Camillo D'Alessandro, coordinatore regionale di Italia Viva, che ha affermato a chiare note che stando alle dichiarazioni di Salvini in Sardegna, l'unico candidato al momento è d'amico per il campo largo in Abruzzo, chiedendo un'operazione trasparenza. Nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore, dovrebbe esserci un vertice a livello nazionale tra i partiti del centrodestra per tentare una mediazione tra le dichiarazioni pirotecniche degli ultimi giorni e la necessità di tenere compatta la coalizione per evitare spiacevoli difezioni, a partire proprio dall'Abruzzo.